E' la nostra battaglia in Senato per la difesa della Costituzione. Come la porterete avanti? L'idea su cui eravamo d'accordo era di rilanciarla nelle piazze e fare i cittadini. Ed è passata? Certo che è passata. La discussione più forte è stata se dobbiamo farla prima di giorno 8 o dopo giorno 8. E che avete deciso? Se ci riusciamo prima. Il problema è tecnicamente metterla insieme. Senta, invece il tavolo con il PD sull'Italicum? Ma non c'è stata quella cosa che favoreggiava certa stampa assolutamente? Non ne dico più. Poi all'era che ne dico più.